Una città per tutti. I primi due scivoli per i disabili sono stati posizionati dinanzi la sede dell'Inps di Ragusa. La festa del patrono, ricco il calendario degli eventi promossi dal comitato San Giovanni Battista. Altri 37 migranti giungono al centro di prima accoglienza di Pozzallo. Le indagini condotte dalla squadra mobile con la collaborazione dei carabinieri di Modica della sezione operativa navale della Guardia di Finanza ha permesso di identificare altri tre scafisti. Abba Godwen, nato in Nigeria nel 74, Edoris Gamne Bricht, nato in Nigeria nel 84 e Yau Sadeo, nato in Gambia nel 97. I due nigeriani hanno condotto un gommone composto da 118 cittadini, tutti del loro paese, e delle indagini emerso che si erano accordati, così come i libici. Pagano il viaggio ma vogliono partire tutti insieme. Quindi gli scafisti hanno raggiunto un accordo con i libici incassando i soldi da loro connazionali, quasi tutti finiti nelle mani delle organizzazioni criminali libiche. Poi un altro scafista ha condotto l'altro gommone, questa volta da sole, con a bordo 123 migranti. Le testimonianze, anche in questo caso, sono state fondamentali. Hanno permesso a tutti di poter lavorare al meglio e identificare gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia scientifica, dopo l'identificazione mediante il rilevamento delle impronte digitali, ha segnalato alla scuola mobile di Ragusa che uno dei migranti aveva già tentato l'ingresso in Italia pochi mesi fa e per questo era stato espulso. A seguito delle indagini, il cittadino nigeriano è stato tratto in arresto. Sono tuttora in corso l'indagine per individuare gli scafisti degli altri due gommoni salpati insieme dalla Libia per raggiungere l'Italia. Anche in questo caso, i poliziotti hanno dovuto verbalizzare delle triste storie di violenza e soprusi subiti in Libia durante la fase di imbarco dalle coste del Nord Africa. I primi due scivoli sono stati posizionati dinanzi alla sede provinciale dell'Inps, frutto della donazione di tre sponsor privati e della vendita dei tappi di plastica raccolti. La città di Ragusa, secondo l'associazione, oltre all'ostacolo, si dovrà dotare di altri 150 scivoli per i diversamente abili. Oggi inaugureremo la pietra miliare del nostro progetto, quello di continuità delle scivole. Queste sono le prime due realizzate. 150 scivoli comunque da realizzare in città? Sì, da realizzare in città con l'aiuto di chiunque voglia sponsorizzarci e dei cittadini delle attività che vogliono raccogliere i tappi per noi. Come sono state realizzate queste prime due scivoli? Queste prime due scivole è un tasto dolente perché sono indubbiamente felice del fatto che sono state realizzate grazie a tre sponsor. Negli stalli c'è scritto il Rotary, il Lions e il Soroptimus. In più, visto che comunque non arrivavamo a coprire le spese, abbiamo attinto ai fondi dei tappi che ci hanno dato le attività, la gente comune, chiunque ha voglia di aiutarci in questo progetto. La nota dolente è che realmente abbiamo atteso tanto per queste scivole. Abbiamo atteso tanto perché comunque non abbiamo avuto altri aiuti se non questi dei privati. Non so quanto sia giusto, però va bene, siamo felici della realizzazione di questi due scivoli ancora. Potevamo farlo molto prima se la burocrazia non ci avesse messo l'ostacolo che era quello delle pratiche istruttive. Dieci mesi per approvare questo nostro progetto che prevede appunto, come ha detto prima Francesca, e cento scivoli in un percorso continuo, un percorso continuo che permetterà a tutti di poter diambulare e andare dove si vuole, almeno al centro. Questo è il progetto che abbiamo in mente noi. Questo adesso lo abbiamo potuto realizzare grazie alle tre associazioni che ci hanno dato la mano con un bel contributo, che sono i Lions, i Rotary e i Soroptinist. Grazie anche a tanti cittadini che ci stanno dando una mano regalandoci i loro tappi di plastica e grazie anche a tanti centri commerciali che hanno messo a nostra disposizione il punto di raccolta di questi tappi. Io praticamente, oltre ad essere socio dell'associazione oltre all'ostacolo, non aggiungerei niente di più da quello che ha detto il presidente e mia moglie che è un'altra associata, Francesca Cavalieri. Mi viene da pensare che le scivole non serviranno solo ai disabili, ma serviranno anche alle donne con le carrozzine, con i loro bambini e agli anziani con invalidità a vari bastoni e cose varie. Quindi un giorno ci siamo ritrovati a riflettere che non serviranno solo a noi disabili tanto quanto, ma serviranno anche alla cittadinanza intera. E quindi è un arricchimento per tutta la città. Come hanno detto gli altri due prima di me, stiamo avendo sempre di più una bella risposta sociale della gente, dei centri commerciali, quelli che siano, per quanto riguarda i tappi. Io dico, sarà che una mia fissa, dico sempre, i tappi non sono solo Coca-Cola, Sprite e Fanta, ma sono anche di bagnoschiuma, di detergenti e questo. È l'inizio per noi, non è la fine. Noi con questo abbiamo iniziato un lungo percorso che sicuramente darà un contributo alla città per renderla più accessibile. Stiamo lavorando anche su altri versanti. Abbiamo altre opere in programma vicino alla Banca Agricola, a Giarratana dove abbiamo fatto un accordo. Stiamo lavorando, stiamo lavorando anche per collaborare con l'amministrazione, per dare suggerimenti, per essere a disposizione e soprattutto per evitare che vengano commessi degli errori che poi l'amministrazione è costretta a riparare. Quelli che abbiamo fatto sono buoni scivoli, accessibili a tutti, soprattutto coloro che non hanno una carrozzina elettrica e quindi che possono spingerla con le mani. In molti scivoli che ci sono in città, questo aspetto non è tenuto in considerazione. Una festa che aggrega le varie comunità parrocchiali con la presenza in cattedrale il 27 di agosto della comunità di San Pietro Apostolo e il 28 della comunità della Madonna del Carmine. Il padrono San Giovanni sarà portato in processione nelle comunità presenti in città. Il Rotary Club ha voluto donare alla cattedrale il restauro della tela di San Giovanni. Il comitato dei festeggiamenti con il parroco, Don Ginalessi, Simone Di Grande e Fabrizio Occhipinti hanno illustrato in conferenza stampa i punti salienti del ricco calendario di eventi collaterali con il club dei festeggiamenti il 29 di agosto. Presenteremo il percorso che abbiamo previsto nel programma di quest'anno e confermando delle scelte fondamentali almeno per ciò che riguarda la scelta di fondo della festa del padrono San Giovanni che è quella di creare relazioni con le varie comunità parrocchiali creare spazi non solo di incontro ma anche possibilità di crescere nella comunione ecclesiale. Quest'anno oltre ai momenti in cui andremo a trovare le varie comunità parrocchiali così come abbiamo fatto l'anno scorso negli spazi delle loro parrocchie abbiamo pensato anche di invitare alcune comunità parrocchiali a venire nella chiesa cattedrale questo proprio per moltiplicare i momenti di incontro, di conoscenza e di comunione. Il nostro gruppo è al settimo anno di lavoro e quest'anno abbiamo una novità nel senso che in collaborazione col comune avremo un evento importante il 28 di agosto un momento che farà comunità ma farà arrivare a Ragusa gente anche da diverse parti della provincia perché avremo la possibilità di avere un duo comico molto conosciuto in Sicilia quale i Soldi Spicci che stanno avendo grande successo sul web e con anche una prestigiosa cover band dei nomadi che viene da Pozzallo che è riconosciuta a livello nazionale proprio dai nomadi stessi. Un momento importante che ovviamente è affiancato a tanti altri momenti culturali il fotocontest di San Giovarte che ha la sua quarta edizione il teatro e tante altre cose che permetteranno ancora una volta di fare di Piazza San Giovanni un luogo importante per vivere a modo nostro, a modo bello ragusano e bleo la nostra estate. Viene riconfermato il fotocontest che si terrà qui a Palazzo Garofalo dal 21 di agosto domenica 21 agosto fino al 28 di agosto che è il giorno di chiusura insieme a tutti gli altri eventi culturali che abbiamo appunto progettato anche per quest'anno Artisti Blei per San Giovanni giunta alla sua settima edizione ci sarà anche una collettiva di sculture di altri artisti daremo uno spazio del palazzo a quattro giovani talenti ragusani e poi appunto ci sarà il discorso del San Giovarte Fotocontest e quindi mi rivolgo a tutti quei giovani ragazzi insomma che hanno la passione per la fotografia parlo ovviamente dei cittadini ragusani i quali già dai prossimi giorni sul sito della cattedrale o sul profilo facebook della festa di San Giovanni possono scaricare il bando in pdf allegando poi diciamo in formato digitale due foto e quindi avranno la possibilità di essere inseriti tra quei candidati o tra quei concorrenti che possono appunto vincere dei premi perché quest'anno abbiamo messo in palio anche dei premi e verranno appunto premiati in piazza San Giovanni durante la serata del 28 quando appunto ci sarà questa bellissima serata che abbiamo pensato tutti insieme L'utilizzo di materie prime legate al territorio anche nella preparazione dei dolci il campione del mondo di pasticceria Fabrizio Donatone ha voluto illustrare ai pasticceri ragusani alcune tecniche di lavorazione questo non solo perché c'è bisogno sempre di crescere ma oggi più che mai c'è la consapevolezza della qualità dei prodotti quindi più che mai oggi formazione a tutti i livelli sicuramente oggi questa iniziativa promossa da Grimontana in una location suggestiva tanti buoni consigli per questi professionisti sì è sempre io penso che avere confronto in varie parti d'Italia e del mondo oggi siamo in Sicilia è sempre innanzitutto motivo di condivisione con gli altri e crescita non solo per me che porto consigli ma anche crescita mia personale perché quando c'è un momento di confronto è sempre un momento di crescita per entrambe le parti io imparo delle cose e nello stesso tempo do consigli tecnici a chi ho di fronte innanzitutto la scelta di materie prime è genuina allora diciamo che l'Italia è ricca di materie prime abbiamo sia per la pasticceria che per la cucina abbiamo sicuramente i migliori prodotti che si possano desiderare al mondo e ultimamente anche a livello tecnico sia i cuochi che i pasticceri stanno andando sempre più in alto e distinguendoci anche nel mondo perché devo dire che in questo momento la pasticceria italiana è sulla vetta del mondo perché i titoli mondiali sono stati vinti da molti italiani nell'ultimo periodo e abbiamo vinto anche ultimamente il mondiale di gelateria quindi direi che ci stiamo imponendo bene nel mondo con le nostre materie prime che abbiamo nobili e buone abbiamo soltanto che da costruire tanti buoni pasticceri anche qui in Sicilia tanti ottimi pasticceri anche qui in Sicilia ci sono delle mandorle buonissime pistacchio buonissimo lavorano molto bene la pasta di mandorle e che dire i dolci siciliani sono conosciuti in tutto il mondo un motivo ci sarà la finalità è quella di proporre formazione formazione in modo forte noi abbiamo il piacere di sponsorizzare un team un team creato dal maestro dei maestri pasticceri italiani il maestro Iginio Massari Iginio Massari ha voluto creare appunto un gruppo fatto da maestri pasticceri di spessore nazionale e internazionale non a caso oggi abbiamo con noi il campione del mondo di pasticceria Fabrizio Donatone che insieme a Francesco Boccia insieme ad Emanuele Forcone e a Diego Rosara stanno cercando sempre di più di dare formazione noi crediamo tantissimo in questo progetto in più siamo presenti qui alla scuola di formazione della Nosco perché crediamo tanto in questo concetto di formazione formazione che parte dall'utilizzo di materie prime nobili da tecniche innovative dei maestri pasticceri quindi la realizzazione di prodotti di spessore legati alla tradizione ed inoltre prodotti buoni in più c'è un altro aspetto importante nel fare formazione è l'aspetto salutistico tutti gli ingredienti che vengono utilizzati dai maestri pasticceri sono ingredienti sani e che fanno bene all'organismo perché riteniamo davvero di considerare l'uomo come un oggetto sacro ed quindi anche gli alimenti che assume devono essere considerati considerati tali buoni ed in più che fanno bene alla salute e tanti pasticceri considerano questo aspetto un qualcosa di secondario tengono conto soltanto della struttura mentre invece non tengono conto della qualità degli ingredienti un dolce buono non soltanto perché è dolce ma perché dà una sensazione importante ed lascia dei ricordi delle sensazioni di spessore con il team massario noi abbiamo cercato di delocalizzare l'attività di formazione è nato il team nel fare formazione in Altitalia e quindi un po' scomodo per i pasticceri soprattutto il sud Italia quindi il team massario ha pensato di creare di fare formazione sul territorio è un progetto che ci sta dando i bei risultati ed in più stiamo cercando sempre di più sul territorio anche delle scuole di formazione che supportano questo tipo di attività anche i controlli fiduciari sono stati sospesi la zootecnia ragusana sembra ormai allo sbando nessun controllo sulla qualità del latte e sulla marchiatura degli animali il registro dell'anagrafe del bestiame è stato sospeso il braccio di ferro tra l'associazione allevatorie e la regione con il mancato pagamento di ben 10 mensilità e dipendenti rischia di vanificare tutto il lavoro fin qui svolto i premi PAC senza i relativi controlli alle aziende non verranno pagati un duro colpo l'ennesimo di una vicenda che sembra oramai titoli di coda l'ennesima assemblea nella sede dell'associazione allevatori per fare il punto della situazione siamo in una fase di stallo spiega il presidente del consorzio provinciale Gianni Campo di una vicenda molto delicata che danneggia in maniera irreparabile il tessuto produttivo dell'intera provincia di Ragusa abbiamo chiesto l'intervento della regione della classe politica per capire il da farsi i controllori dell'associazione allevatori senza il saldo di una parte delle immensità pregresse non intendono più proseguire nella loro attività i dipendenti hanno incrociato le braccia la col diretti intanto esprime solidarietà ai lavoratori ma chiede all'associazione di fare una verifica interna le responsabilità sono della regione della classe politica precisa il direttore della col diretti Pietro Greco che non ha saputo gestire la vicenda nel modo migliore in questa assurda controapposizione ci vanno di mezzo gli allevatori gli imprenditori agricoli che sono l'anello più debole di tutta la filiera abbiamo chiesto un ulteriore incontro all'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici ai vertici dell'AIA all'associazione italiana allevatori per capire il da farsi successivamente l'associazione deve fare delle scelte dolorose ma necessarie un taglio del personale in esubero per rimettere in sesso gli uffici periferici iniziando proprio da Ragusa Grazie a tutti